Avere una volpe artica ti facilita di ben mille volte uccidere a Render Dragon e questo non perché la puoi domesticare ed equipaggiare con le armi più forti del gioco per colpire il drago ma grazie ad un'abilità unica di questo mob. Infatti, in pochissimi lo sanno, ma tutte le volpi di Minecraft, comprese quelle normali, possono spawnare con in bocca una grandissima varietà di oggetti come ad esempio piume, zampi o pelle di coniglio. Tra questi oggetti però ce n'è uno talmente utile che anche se ti dovessi trovare su un'isola di terra in mezzo al nulla ti permetterebbe comunque di avere un set completo, un portale del nether e far apparire addirittura il portale del land. Ha una possibilità di spawnare di solo il 5% e praticamente tutti i giocatori delle speedrun lo utilizzano. Purtroppo non riesco a dirti tutto qui, quindi se ti interessa tutta la storia clicca su questo mio video.